In acqua per la batteria 29, alla corsia 1 Rami Pietro, alla 2 De Plano Matteo, alla 3 Frattoni Cosimo, alla 4 Baroni Lorenzo, alla 5 Dolfani Ivan, alla 6 Cappellini Simone, alla 7 Porto Ceracomo e alla 8 Cappellini Matteo, mentre sono alla partenza per la batteria 30, alla 2 Zanobetti Edoardo, alla 3 Pecciarini Alberto, alla 4 Giusti Federico, alla 5 De Paoli